L'impresa di Usain Bolt accende l'entusiasmo della Jamaica House a Rio. La medaglia d'oro nei 200 metri, dopo quella conquistata nei 100, fa esplodere la gioia di centinaia di tifosi giamaicani, abituati ormai da molti anni ad esultare per i successi del loro beniamino. Ma è sempre come la prima volta. È una sensazione indescrivibile, non avevamo dubbi che avrebbe vinto. Ha reso orgogliosa la Jamaica, ha reso orgogliosa la nostra piccola nazione. Lo amiamo e abbracciamo la sua vittoria. Usain Bolt fa sognare in tutto il mondo e siamo così orgogliosi di essere qui a Rio a festeggiarlo. Quando lo vedi in pista è un'icona, non c'è nessun altro come Usain Bolt. L'atleta, che domenica compirà 30 anni e probabilmente concluderà la sua carriera a fine anno, ha la possibilità di realizzare un'impresa ancora più clamorosa. In caso di vittoria oggi nella 4% farebbe segnare la terza tripletta di ori in tre Olimpiadi consecutive. L'atleta, che domenica compirà 30 anni e probabilmente chiama.